Sì qua ragazzi, buongiorno a tutti, tra poco il video, bel caffè, tazza fumante di caffè e poi tra poco si comincia a parlare di Milan, giornata importante, bisogna arrivare a 42 punti, stasera la partita è importante, è molto molto difficile, ci ascoltiamo un po' di musica per il momento, va, The Mage Plant. A dopo ragazzi! Grazie a tutti!